Ah sì, siamo patriottici, leanza. Cosa si fa stasera? C'è un'evoluzione, perché da quest'anno e tra pochissimi giorni parte sempre in diretta streaming web, audio e video, quindi potete seguirci dal vostro iPad, dal vostro iPhone, da Facebook, Twitter, da dove vi pare, e poi in diretta dalla vostra auto, dall'ufficio, in radio. Quale radio? Beh, questo ve lo diciamo nella prossima edizione, che ci sarà anche questa settimana, quindi non perdetevela. Di cosa si tratta? Il Linkati, la radio che ti posta. Per tutte le news, restate con noi. Sai che la cucina di Landulfi è aperta fino alle due di notte? Partiamo dall'Irpinia. L'appuntamento imperdibile è quello della domenica con lo special Sunday Melagodo Events, dove l'appuntamento è allo Shamrock, via corridoio a Flumeri. Come raggiungerlo? La domenica è quella Napoli-Bari, l'uscita è Grotta-Minarda, direzione Flumeri, a 5 minuti. Sul versante, invece, partenopeo, ci spostiamo a Nola, dove oramai il clubbing di riferimento in Campania è il Blomac. È un popolo strabiliante successo di un light party, cioè la notte delle luci, dove ha visto, insomma, il corpo di chi si trovava lì a Blomac essere il bagliore nella notte con i loro UV body pipes. E, insomma, da non perdere. Se riuscite a prenotare un privé, cosa molto improbabile, è meglio. Comunque, Blomac Club, l'uscita è Nola, autostrada, Napoli-Bari. Un altro locale d'eccellenza, invece, in Campania, è Nola, raggiungibile comodamente sia da Campobasso che da Benevento, e parliamo di Landulfi. Tra l'altro, inutile ripeterlo, infatti, non avete visto lo spottino, ma avete visto quello generale, proprio perché oramai il giovedì, fortunato, ed il venerdì, la sua, come dire, atmosfera unica è da constatare di persona. Eh, però bisogna prenotare, perché oramai sono decollatissimi. Landulfi.it e a Ponte Landolfo, Benevento. In streaming e in radio, audio e video, ci potete guardare anche dal web, taggati e linkati. Visto che il Carnevale è alle porte, per moda e tendenze, questa settimana vi diciamo cosa è per essere molto, molto di tendenza anche a Carnevale. L'ispirazione è quella cinematografica, e questo è l'anneo di Anna Karenina, e il costume per essere top anche a Carnevale. Torniamo però nel Sannio, in centro, dove, insomma, è arrivato oramai al suo terzo anno di programmazione, il club, il festino, e sta preparando qualcosa per l'8 febbraio da non perdere. Gli aggiornamenti, oltre che su Facebook, non c'è una situazione con le Anza. Sempre nel Sannio, e precisamente a San Giorgio del Sannio, è Velvet Video Music Hall. Di cosa si tratta? Eh, beh, come spiegarlo? La novità, quella non a chiacchiere però, a partire di un locale su due livelli, con, come dire, una veduta a 360 gradi, perché le vetrate la fanno da padrona, e poi i video musical su due livelli, cocktail, l'aperitivo, insomma, da visitare decisamente la novità. È Velvet Video Music Hall San Giorgio del Sannio Benevento. Il festino. Questa settimana per DJ Voice & Producer vi parliamo di Dario Crisci DJ, che da decenni sulla crista dell'onda, in Campania e non soltanto, anche le sue tappe nel Basso Lazio, tra i migliori clubbing, e poi, come dire, è attualmente il Deus Ex Machina del locale più ambito, e si ritorna a parlare di Bloma, perché è lui che guida la console. Questo grazie non soltanto alla sua esperienza e alla sua indiscutibile bravura, dimostrata dai fatti, sicuramente, con quello che poi è la sua caratteristica fondamentale, il mai montarsi la testa, è quello contraddistingue. Da molto è anche producer, sbirciare sui social network per ascoltare qualcosa. Beh, tutte le news riguardanti nel dettaglio, gli appuntamenti, gli eventi, i party, di questo carnevale oramai alle porte, seguiteci nella prossima edizione. Leansa TG. Mi raccomando... Fatelo, fatelo, fatelo. Peace and love. Ciao!